Allora, mentre siamo al ristorante cinese o giapponese, non lo so, non si è capito bene, facciamo anche un rapido commento sulla partita della Juventus, ma non tanto per commentare la Juve, perché ormai la Juve è talmente superiore che cosa vuoi commentare, c'è i singoli, quando io va decido una partita è fine. Commentiamo invece a Socagliari, a cui devo fare i complimenti perché sarei venuto a giocare con personalità, con possesso di palla, ma anche con proietà di possesso, cioè si è presentata proprio con l'atteggiamento da grande, tanto è vero che poi ha rischiato di andare subito in gol con Pavoletti, cioè dopo di pareggiare, dopo il gol di palla che è arrivato al 44esimo secondo, ha pareggiato, poi chiaramente è durato poco, sfortunatissimo l'autogol, però ecco comunque è un Cagliari che non si è piegato a 90 gradi, ha detto dai, impulata, ci è giocato la partita, quindi dico a Dio quando ci sono queste squadre che chiaramente sono 3-4 categorie inferiori rispetto a tutti, ma se la vengono a giocare, onore a Cagliari. Un saluto e adesso io continuo perché vedi, perché il nastro va avanti, che non si ferma, io posso mangiare, fino a che non muoio posso mangiare. Grazie.